Il piccolo bruco mai sazio. Di notte, su una foglia illuminata dalla luna, c'era un piccolo uovo. Ma una bella domenica mattina, quando si levò il sole caldo e splendente dall'uovo, crac, uscì un piccolo bruco affamato. Subito si mise in cammino alla ricerca di cibo. Lunedì mangiò una mela, ma non riuscì a saziarsi. Martedì mangiò due pere, ma non riuscì a saziarsi. Mercoledì mangiò tre prugne, ma non riuscì a saziarsi. Giovedì mangiò quattro fragole, ma non riuscì a saziarsi. Venerdì mangiò cinque arance, ma non riuscì a saziarsi. Sabato mangiò un dolce al cioccolato, un gelato, un cetriolo, un pezzo di formaggio, una fetta di salame, un lecca-lecca, una fetta di pan dolce, una salsiccia, una pastina e una fetta di anguria. Alla sera aveva il mal di pancia. Il giorno dopo era di nuovo domenica e il bruco si mise a mangiare una bella foglia verde. Si sentì subito meglio. Adesso non era più affamato, era proprio sazio, e non era nemmeno più tanto piccolo, ma era diventato grande e grosso. Allora si costruì una casa molto stretta, chiamata Bozzolo, e rimase là dentro per più di due settimane. Poi scavò un buco nel bozzolo, si sforzò di uscire e... Era diventato una meravigliosa farfalla. Fine